Potrebbero arrivare dalla rimodulazione dei fondi per il Patto per il Sud delle nuove risorse necessarie per completare la caserma dei Vigili del Fuoco di Siracusa e anche quella di Augusta. La decisione è stata assunta nel corso di un'audizione in Commissione Bilancio dell'ARS a cui hanno partecipato gli assessori regionali all'economia Gaetano Armao e all'infrastrutture Marco Falcone. Il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici del comune Megarese Roberta Suppo è anche il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa, l'ingegnere Fernando Franco. Per completare i lavori della caserma di Contrada Pizzuta, che sono ripresi a gennaio, accorrono 3 milioni di euro che serviranno per la realizzazione di un'ala dell'edificio. Ad Augusta, invece, servono ancora circa 250 mila euro per definire l'intera struttura. Il riferimento è al secondo lotto per l'importo contrattuale di 3 milioni e mezzo di euro, il ribasso di oltre il 20% ha permesso di aggiungere in conto per enzione quasi un milione di euro che consente di procedere alla predisposizione del progetto esecutivo per il terzo lotto e quindi per la conclusione dei lavori. La Commissione ha dato mandato all'ingegnere Calogero Foti, dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile, a fare il punto della situazione e a presentare due progetti per altrettanti interventi da finanziare con fondi pubblici. Siamo fiduciosi sulla possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici, ha così commentato il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Stefano Zito. Invece contrario l'ex parlamentare Vincenzo Vinciullo, che dice, premesso che era attesa una relazione tecnica dei Vigili del Fuoco per eventuali modifiche al progetto, ritengo eccessiva la somma di 3 milioni di euro per la realizzazione del terzo lotto dei lavori per la costruzione della caserma dei Vigili del Fuoco di Siracusa, spiega infatti l'ex parlamentare Vincenzo Vinciullo, che ancora continua, ma ammesso che questo sia l'importo necessario, l'ex parlamentare non comprende perché debbano essere riaperti termini per la contrattazione dei fondi del Patto per il Sud, che significerebbe penalizzare ancora una volta la nostra provincia, secondo appunto Vincenzo Vinciullo. Grazie a tutti.